ciao benvenuti a questa mia puntata di deliri cattolici in questa puntata ce la prenderemo con gente che fa finta di essere così come gesù cristo voglio dire ma invece ha un'ottima mira pugni potenti e molta forza a voi questa rissa in chiesa con sottofondo portoghese ciao a tutti cosa dite il destro di monsignore era potente o era veramente la mano di dio in grado di togliere tutti i peccati del mondo ma anche forse anche tutti connotati del mondo la poverina non so se sopravvissuta vi lascio alle prossime puntate ciao a tutti ciao